Buongiorno, mi chiamo Andrea Scacchi e sono un funzionario del comune di Cinisello Balsamo. Sono qui per presentare a inquilini e proprietari una nuova opportunità d'affitto. Questa opportunità si chiama canone concordato o canone agevolato e presenta grandi vantaggi sia per gli inquilini sia per i proprietari. Agli inquilini consente di pagare l'affitto un po' più basso e ai proprietari consente di guadagnare molto attraverso sconti fiscali, sia sull'IRPEF sia sull'IMU. La nuova opportunità esiste perché l'anno scorso abbiamo sottoscritto un nuovo accordo territoriale con le associazioni di rappresentanza sia dei proprietari sia degli inquilini. Se siete un proprietario e avete una casa sfitta, pensate all'utilizzo di questo strumento e addirittura se avete un contratto già in essere a libero mercato potete pensare di rinegoziarlo. È assolutamente possibile. Per avere maggiori informazioni, per trovare un simulatore che vi consenta di capire quanto potrebbe essere il nuovo contratto d'affitto, potete tranquillamente navigare sul sito internet del Comune alla sezione Agenzia della Casa. Lì troverete tutte le informazioni utili e anche un utilissimo simulatore che vi consentirà di capire quale potrà essere il valore del canone. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!